Cambiano le forme del turismo in questa estate caratterizzata dall'emergenza coronavirus. Una delle vie di fuga dei turisti è rappresentata dalla nautica da Diporto. Ne parliamo con il presidente di Bicelli a Prodi, Antonello Soldani. L'emergenza coronavirus ha rallentato molto i ritmi di questo avvio di nuova stagione, ma indubbiamente Bicelli anche quest'anno con Bicelli a Prodi punta a diventare punto di riferimento del turismo di tutta l'area. Sì, certamente sì, abbiamo avuto problemi organizzativi, anzi addirittura fino a una quindicina di giorni fa avevamo proprio dei seri dubbi e gli indicatori non erano certamente positivi. Poi è bastato questo allentamento e queste dichiarazioni per far riprendere veramente come pensavamo di poter fare. Purtroppo abbiamo bloccato un po' di attività, ma non per noi, perché non c'era la disponibilità. Per esempio, qui alle mie spalle saranno ormeggiate due case galleggianti e quindi è un modo nuovo per le nostre zone di Corresse e anche il mare. Delle quattro che avevamo previste saranno pronte, tranne a quindicina di giorni, solo un paio. Le altre due probabilmente slitteranno di un mesetto. Però devo dire che le prenotazioni e i contratti li stiamo facendo e tutto sommato siamo molto vicini ai livelli dell'anno scorso e siamo in pieno assoluto recupero. Quindi sicuramente sarà un'estate positiva per Biceglia Prodi. La nautica di Porto quindi sta rispondendo bene e naturalmente c'è sempre la bellezza dello scenario nel quale ci si va ad inserire. Sì, certamente sì, anche perché con ancora le problematiche della fruibilità delle spiagge, soprattutto tutte le spiagge, soprattutto quelle libere, chi ha una barca e che non aveva messo a mare negli ultimi anni sta ora decidendo di farlo. Tant'è vero che stiamo avendo alcuni problemi proprio per le barche piccole per le quali non abbiamo grandissima disponibilità dalla parte centrale, però utilizzeremo tutta questa zona per far fronte a questa domanda.